E' uscito tremante ma illeso sulle proprie gambe il conducente di 56 anni che alle prime luci dell'alba di oggi si è schiantato con la sua auto contro questa parete del ristorante cinese ai piedi del ponte della Priula. Poche conseguenze per un incidente che avrebbe potuto avere risultanze ben peggiori se fosse capitato in un altro momento della giornata o se l'auto avesse modificato anche di poco la propria traiettoria. E' tutto molto probabilmente per un colpo di sonno alle 4 del mattino che ha lasciato senza freni la BMW grigia proveniente da Spresiano direttamente contro il finestrone della sala da pranzo di questo ristorante cinese. Nell'impatto il motore è letteralmente scoppiato inondando d'olio tutta la parete mentre il finestrone è stato scardinato dal muro che in parte ha ceduto. Dopo il colpo tremendo l'arrivo immediato dei vigili del fuoco chiamati da alcuni automobilisti di passaggio pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'aria mentre un'ambulanza dell'ospedale di Conegliano ha portato il conducente al pronto soccorso per accertamenti. Questa mattina il locale ha regolarmente aperto mentre molti automobilisti di passaggio hanno fatto notare come lo spartitraffico saltato dalla BMW abbia delle barriere solo per il palo dell'illuminazione e quello dei cartelli stradali in un punto dove soprattutto di sera è facile incrociare veicoli che arrivano al ponte con velocità elevata salvo poi accorgersi all'ultimo dello svincolo e sterzare bruscamente. Un tema quello della sicurezza dello svincolo già noto da tempo a Nervesa comune a cui compete territorialmente. Noi geograficamente siamo in un'area di competenza territorialmente del comune di Nervesa ma è ovvio che le competenze poi relativamente alla viabilità stradale in quel tratto di strada lì competono a quello che è l'ente proposto che è l'ANAS. Sono stati per il passato e sono costantemente mantenuti vivi certi contatti anche perché poi li siamo in un contesto un po' particolare e spesso lì capitano che autovetture arrivano a toccarsi perché non è ben chiara la rotazione interna. Però adesso voglio segnalare l'ANAS. Chiaramente sarà un compito nostro quello di comunicare nuovamente con l'ente per avere certezza che possa aumentare il livello di sicurezza di questo tratto stradale.